Salve a tutti giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video, riprendiamo un attimino Magic perché è andato un pochino che l'abbiamo accantonato anche perché comunque ora dovrebbe arrivare un po' di roba, dobbiamo fare delle deck profile però intanto vi consiglio un mazzo che io ho consigliato al sensei nazionale di turno e con tutte le modifiche primo torneo sei 0 vinto a casissimo quindi diciamo che è un ottimo punto di partenza per essere un po' competitivi prima di iniziare per sempre, mi invito a scrivere il nostro canale, premete sempre aggiornati, grazie mille e allora mazzo che è il challenger deck 22 in mono bianco che ovviamente si è stato adattato per lo standard se volete potete, non lo consiglio tanto di prenderlo per lo standard perché comunque il formato è girato ovviamente da tanto tempo, quindi tante carte non possono essere utilizzate però come alto formato alla Pioneer potrebbe essere molto molto interessante anche perché ci sono delle carte molto buone che potete andare a inserire ovviamente anche senza andare a prenderlo possiamo andare a vedere come fonte di ispirazione tra virgolette quali carte possono essere molto molto forti e comunque sono uscite un sacco di carte bianche disintegranti dai nuovi set da guerra dei fratelli quel cavolo di Mirella che è gigante quindi andiamo a vedere come è composto questo mazzo che se volete prenderlo tanto costerà una trentina di euro non costerà neanche tanto oppure se volete andare a prenderle di singole non credo dovrebbe costare troppo poi dipende dalle aggiunte che dovete fare anche perché Adeline e Brutal Catar sono carte che comunque voi non vuoi sono da mettere allora abbiamo Cospel Cleric che in realtà non mi piace tanto perché entra quando entra come seconda magia mette segnalino più uno più uno su una creatura monaco della mano aperta quando cassiamo la seconda magia prende un segnalino più uno più uno già lui è molto più forte Asher of the Fallen costo 1-2-1 con il boost che ci permette di creare pedine quindi lui è molto importante, è carta veramente molto forte il Cryon Spirit che ci spamma pedine alla seconda spell, tanto le magie sono tutte a costo basso quindi non è male lui non mi piace per niente quindi neanche ve lo consiglierei Luminaria Aspirante Staple importantissima perché ogni pre-combat mette segnalino su una creatura fortissima potete mettere anche carte come specialista di distrazione perché comunque te lo ricare al cimitero non può attaccare questa però l'effetto si triggera Talia che dovete mettere a 4 perché è il mio incubo peggiore con attacchi improvviso le magie non creature le costano uno in più un mazzo di magia non creatura ne gioca veramente poche perché è un mazzo che deve essere aggressivo che punta l'avversario a fargli pagare più mana possibile a prenderlo in velocità quindi Talia in questo caso è veramente molto forte c'è anche il soldato il veterano che praticamente dà più uno più uno a tutti gli altri soldati che potrebbe essere un buono qualora voleste modificare il mazzo in un soldato ed è Spellbender molto forte perché comunque entra e si è una carta alla mano dell'oppo quella carta gli costa 2 in più e può essere veramente pesante c'è anche il nuovo Chierico che c'ha nuovo tra virgolette il nuovo Chierico 3-3 che fa la stessa cosa solo che ogni carta con quella con quel con quel nome costa 2 in più e anche se lui non c'è più in campo costa comunque 2 in più poi Raidan 2 per mi sembra molto buono come rateo comunque è molto forte soprattutto anche l'artefatto perché l'artefatto non sembra però col fatto che i target di costa 1 in più e previene un danno è molto forte e la Scaric Elevation che è un removal che poi non ti consente di riprendere la carta perché se lei muore e la carta ovviamente ritorna ma non ritorna come carta ritorna come token con forza e costituzione parla del costo di mana quindi molto forte Spacchino sempre buono terra barra Spacchino classe Paladino che non c'è senso a costo 1 le magure che la persona gioca al nostro turno gli costano 1 in più poi le creature prendendo più 1 più 1 e praticamente all'ultima classe a livello più alto con una creatura attacca fino alla fine del turno una creatura attaccante per il più 1 più 1 per ogni altra creatura guadagna doppio attacco così proprio per disintegrarvi l'esistenza terra molto forte che diventa una creatura 4-3 veramente molto molto forte a costo di 3 mana neve questo è stato veramente gigante in mana sono tutti neve Portable Hall anche questo aumentare un pochino di rato perché è un removal in mane perché entra in campo di battaglia esilia permanente non terra dell'avversario con costo 2 inferiore inizio partita è immenso Catar Comando può essere un'ottima carta design l'olio a warbound e finiamo anche lei questa è un'ottima carta finiamo comunque con qualche carta design che può essere molto interessante qualche removal qualche altra carta come Adeline eccetera e il mazzo potrebbe essere veramente molto molto forte quindi per me è un ottimo punto di partenza e consiglio poi porterò anche la profile del sensei aggiornatissima e ultra competitiva perché ci abbiamo lavorato abbastanza e la porterò sul canale detto questo ragazzi fatemi sapere voi cosa ne pensate cosa ne pensate il mazzo se l'avete già provato sia Tempi Kondoshi e magari se ultimamente state giocando un muro bianco così noi come sempre ci vediamo in un prossimo video e un saluto a tutti